Manca pochissimo a Natale e io scelgo di farvi vedere i profumi che io ho scelto per questo meraviglioso periodo dell'anno. Buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Io scelgo proprio i giorni del Natale, poco prima, poco dopo Natale, per farvi vedere le mie proposte per quest'anno, non cambiare stessa spiaggia, stesso mare, sì, ora la smetto di fare l'idiota, queste proposte per il Natale. E' stato veramente, veramente, veramente difficile per me riuscire a scegliere i profumi che dovevano essere comunque quelli che, secondo me, parlavano più di questo periodo dell'anno. Perché, secondo me, nei miei gusti ci sono tantissimi profumi che potrebbero rientrare in questa categoria, ecco. Quindi, io direi di partire subitissimo da un profumo che è un profumo di un brand di cui, secondo me, ancora si parla troppo poco. È inaccettabile perché è uno dei brand che io preferisco, italiani, che vende profumi di nicchia assolutamente di qualità eccelsa, molto particolari, molto buoni e, oltretutto, ha dei prezzi veramente concorrenziali. Sto parlando di giardini in Toscana e io, in questo caso, ho scelto un solo profumo che è il rosso rubino. Questo è il suo pack, vabbè, io vi ho già fatto vedere questi profumi anche su Instagram, ma ci faremo un video dedicato presto ai giardini in Toscana perché io ne ho diversi. E non starò qua a leggervi tutte le note, perché se no facciamo note e ne devo farvene vedere diversi. Questo è un profumo che io associo molto al Natale, sì, perché è un profumo che ha al suo interno agrumi, frutti di bosco, cacao, la nota molecolare del cashmeran, perché comunque ci sono in questi profumi, spesso e volentieri, comunque sono utilizzate note molecolari. Quindi questi profumi sono profumi che evolvono e cambiano da pelle a pelle. Sulla mia pelle resta un profumo che io vi ho già detto in altre occasioni, che questo brand in particolare ha dei nomi particolari per i suoi profumi, nel senso che celeste, rosso rubino, bianco oro, blu indaco, eccetera, eccetera. Il nome che porta al profumo è molto, molto esplicativo di quello che sarà il profumo. In effetti questo profumo ricorda proprio il colore rosso, è un'associazione che io faccio spesso con i profumi, a volte mi viene proprio spontanea, no? Perché comunque direttamente dal naso l'odore arriva al cervello e spontaneamente a me viene in mente un colore, spesso e volentieri, quando alluso certi profumi. E devo dire che questi davvero fanno quello che promettono, insomma, il nome è tutto un programma e davvero questo mi ricorda il colore rosso. Si sentono gli agrumi, però è una nota molto calda, molto calda, dolce, ma non dolcissima, non è un gourmand assolutamente, anche se c'è questa nota di cacao che serve a scaldare. Questo cashmere rende tutto molto avvolgente, molto caldo, molto morbido, davvero sembra di essere in un villaggio di Natale, in un villaggio di Natale dove fuori nevica, dove c'è questo odore di frutti di bosco, e di bevande tipiche natalizie come il vin brulé, come questi punch, come questi tè aromatizzati che stanno bollendo sul fuoco. Voi siete fuori, però, passeggiate in questo piccolo villaggio dove c'è la neve, c'è molto freddo, ci sono questi odori nell'aria che sono leggermente pungenti, ma c'è un gran calore che proviene dalle case, e quindi c'è questo calore che voi vedete, percepite, che esce dai camini, dalle giornate di festa, da questo calore veramente che si percepisce, ecco, il colore rosso è il colore di questo profumo. È un profumo che io vi consiglio assolutamente perché i profumi di Giardini Toscana sono meravigliosi. Come potevo io non inserire in questa carrellata la mio amore? Non so quante volte ho ricomprato questo profumo, perché è uno dei profumi della mia vita, e sto parlando di Lucum, di Keiko Mechery, in questa nuova versione, diciamo, da 100 ml, il distributore di Keiko Mechery in Italia, comunque in Europa, è fallito, quindi ora questi profumi sono diventati leggermente introvabili, anzi molto introvabili. Vi consiglio, se trovate qualche Lucum in qualche profumeria, di accapararvelo immediatamente, se siete comunque amanti del genere. Questo è il profumo caldo per eccellenza, questa è una mandorla con una rosa caramellata, è una rosa assolutamente ricoperta da zucchero, un profumo con mandorla rosa caramellata, come vi dicevo, miele, un profumo appunto che vuole ricordare il dolce tipico turco, quindi Lucum, Lucum Rahat mi sembra si chiami il dolce proprio, però non ne sono sicura, che è questo dolce super mega hyper extra calorico, probabilmente buonissimo, però molto calorico e questo profumo è molto calorico, questo è un gourmand non da pasticceria, però non un gourmand di quelli super scontati che sa di pasticcino, cioccolatino, cavolatino, eccetera, eccetera, è un profumo molto complesso, un profumo molto buono che o si ama o si detesta, perché è un profumo molto forte, molto dolce, una dolcezza però molto particolare, una dolcezza veramente appiccicosa, perché questa sensazione di miele ci sente proprio, non si sente quella nota del miele che io non sempre amo nei profumi, qui proprio serve a dare quella appiccicosità, è un profumo veramente unico, un profumo che poi sulla pelle piano piano si assesta dopo ore e ore, perché è un profumo dalla persistenza abbastanza infinita, è reso comunque più morbido, più delicato da questi sentori leggermente talcati, leggermente da di bambola, no, sa questo odore leggermente da bambolina, che è un profumo delizioso veramente, è uno dei miei profumi preferiti, che io vi inserisco spesso in diverse categorie, ma secondo me anche durante le feste, avendo questi sentori di frutta secca dolce, è un sentore che per questo periodo caldo e avvolgente è il termine che più si addice a questo periodo, no, nel senso c'è la ricerca di che cosa, di qualcosa di caldo e avvolgente, questo è un profumo ideale proprio per questo. Ora vi mostro un profumo che è un capolavoro della profumeria artistica italiana, che è il profumo, il capriccio del maestro di Nobile 1942, questo è il packaging, mi è stato detto che queste sono le immagini dei nonni del creatore, appunto, di questo profumo, e quindi questo è il pack, ve lo faccio vedere meglio perché così inquadra me e non va bene, ecco qua, è come un libro questo pack e qui troviamo, vabbè, una dedica di Nobile e qui all'interno troviamo il profumo, lo potete trovare anche in versione con la bottiglietta rossa, non so quale sia la differenza, credo nessuna, questo è un assoluto capolavoro della profumeria italiana e questo è un profumo che è stato realizzato da Nobile 1942 dedicato a Giacomo Cuccini, quindi il maestro Giacomo Cuccini e comunque prende ispirazione dalla vita del maestro, che è stata una vita, diciamo, un po' sui generis, ecco, lui amava abbastanza il vizio, amava le belle donne, amava godersi la vita, leggo un qualche stralcio, amava le compagnie scapestrate, pigro e geniale, neurotico, strafottente e timido, gogliardico e primitivo, amava stare in compagnia e allo stesso tempo sentiva il bisogno di solitudine in modo quasi morboso, cioè bevitore, fumatore di sigari, questo è un profumo molto particolare, ci sono note all'interno di note speziate, orchidea, rumo, paciuli, tabacco e miele, insomma, io ho letto un po' di note, questo è un profumo, vi dicevo, che quando io ho sentito la prima volta mi ha dato un'impressione molto particolare, nel senso, io ho recensito tanti profumi in questi anni, tanti, 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 tantissimi, sono tantissimi profumi che io vi ho mostrato, i profumi che ho amato, i profumi che ho annusato, i profumi che vi ho mostrato con più passione e più ardore di altri, perché ci sono profumi che ho amato con più passione e più ardore degli altri, ecco, io sentendo questo profumo, non è un profumo che somiglia a qualcos'altro, però è come se dentro questo profumo io avessi rivisto nella mia mente tanti piccoli stralci di tutti questi anni passati davanti a questa fotocamera, che mi passavano davanti agli occhi, no? Cioè, quindi, due parole di un profumo di un certo tipo, due parole di un altro, due di un altro, tutti racchiusi in una voccetta meravigliosa, che è questa. Questo è un profumo dal sentore leggermente di tabacco dolce, ma molto, 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 molto denso, un odore dolce denso, c'è questo miele che si sente molto bene, è un profumo assolutamente raffinatissimo, che cambia tantissimo tra testa, cuore e base, quindi c'è un'evoluzione molto bella, si apre appunto con questo tabacco che poi è subito molto gentile, però è veramente un profumo particolarissimo, molto dolce secondo me, unisex ma molto dolce, ed è uno dei profumi più buoni che io abbia mai sentito, devo essere sincera, perché questo è un profumo che ha quel quid particolare, che è come se racchiudesse tanto, è come la chiusura di un cerchio, è come un happy ending, qualcosa che arriva dopo tanto girovagare, dopo tante avventure meravigliose, c'è come un lieto fine, e questo si chiama il capriccio del maestro, ecco, è veramente un capriccio questo profumo, perché è un odore così sensuale, così ricco, così gurioso direi, che davvero forse rappresenta veramente, cioè appunto questi odori rappresentano davvero la vita di questo maestro, cioè Giacomo Puccini, così dedita al vizio, alle passioni, allo sfogare, a dare libero sfogo alle sue passioni, e questo è un profumo proprio così, c'è un profumo pieno di godimento, di piacere e di sensualità, ma nello stesso tempo raffinatezza, questo è veramente un consiglio che vi do con tutta me stessa, perché è un profumo che va almeno una volta nella vita sentito, perché è un profumo che sono sicura che in molte di voi lascerebbe il segno, è un profumo assolutamente consigliato per questo periodo, appunto perché è un profumo che comunque, come vi dicevo prima, è proprio un profumo godurioso, cioè è la parola che mi viene da dire più, perché proprio è questo periodo delle feste, al periodo dell'opulenza, del lasciarsi andare anche a tavola, ora il periodo è quello che è, ma di norma, c'è amore nell'aria, c'è i baci sotto il vischio, c'è il bicchiere di troppo, la sigaretta di troppo, il sigaro, c'è un po' di giocare a tavola a carte con la famiglia, c'è un po' di vizio anche in questo periodo così bello, questo profumo lo rappresenta in toto secondo me. Poi veniamo a un altro profumo che secondo me è un profumo che per le feste è come dire, non lo so, il cacio sui maccheroni, come si suol dire, ma che bei paragoni delicati che faccio, e vi parlo di Cookie Crunch di Cookie at Paris, io ho già avuto questo profumo, lo conosco questo profumo, molto bene, è un profumo che mi è piaciuto veramente tantissimo dal primo spruzzo, è un profumo che sa di torta al limone, di biscotti al limone, perché sa di pasta frolla al limone, quindi c'è questo odore leggermente biscottato, è un profumo che non può passare mai inosservato, è un profumo che è perfetto per le feste, è assolutamente perfettissimo per le feste, perché è un profumo che fa girare la testa, perché è dolcissimo, ma non stucchevole, perché ha questa rotta di limone che comunque alleggerisce da quel po' di frizzantino che serve, però è veramente un bel vassoio di biscotti di cookies proprio, cioè di questi cookies usciti dal forno, questa pasta frolla quando è leggermente aromatizzata con la scorza di limone che sta cuocendo nel forno, direi che è uno degli odori più celestiali che si possono immaginare, ecco, Cookie Crunch è esattamente questo, ha delle note di panna, di biscotto, di meringa, di limone e di vaniglia, quindi potete immaginare che profumo gourmand godurioso sia, è un profumo che a me piace tantissimo, io ho scoperto di amare gli agrumi nei profumi dolci, ma devono essere come dico io, nel senso che i profumi devono comunque essere profumi che abbiano una certa struttura, una certa tipologia di sentore, ecco, quando c'è quel sentore molto chimico e fastidioso, io ho un po' di difficoltà, no? No, qui veramente è un profumo delizioso, cioè mia mamma l'altro giorno l'ho indossato per andare da lei e mi ha detto, cioè, purtroppo non possiamo avvicinarci ma ti abbraccerei per annusarti perché profumavo di felicità, ecco, io definirei questo profumo il profumo della felicità, parliamo dell'ultimo profumo, cioè Tonka di Granado, qui c'è scritto profumeria Febo o Pebo, ma penso che si pronunci Febo, se vedete bene, io sotto vi metto comunque il link, in modo tale che possiate comunque darci un'occhiata, allora questo è un profumo interamente dedicato alla Favatonka, voi sapete che io amo questo sentore, non sempre però lo amo nei profumi, quindi questo è il pack, anche qui super consigliato come regalo di Natale perché è molto bello, è questa confezione che sembra di legno, con queste venature dorate questo profumo contiene note di, in testa c'è il cocco, cucumarina e note legnose, nel cuore c'è cocco, Favatonka e Amberwood, mentre in base c'è vaniglia, ambra e muschio, dunque l'apertura di questo profumo è molto fresca, infatti ha un'apertura quasi leggermente legnosa ma quasi pulitosa, si scalda poi subito e compare quella che è secondo me una delle caratteristiche della Favatonka che io amo di più, c'è questo sentore leggermente dolce, non esageratamente dolce ma leggermente mandorlato, voi sapete che io ho questa passione enorme per la mandorla, l'ho sempre avuta, la ricerco spesso nei profumi e oramai la ricerco comunque in maniera particolare, nel senso che ricerco un sentore strano, non un sentore usuale, ecco qui abbiamo un profumo che ha questo sentore molto morbido, a un certo punto si ammorbidisce tantissimo, diventa molto delicato, questo sentore diventa leggermente mandorlato, si mescola con l'ambra, questo leggero sentore di cocco che però ha questo odore molto caldo, molto avvolgente, assolutamente non estivo secondo me, ma perfettamente adatto per questo periodo, è molto particolare perché ha questa evoluzione dalla partenza che è quasi, sa quasi di pulito, di sentore molto leggermente aggrumato e pulito, per poi comunque come facesse una discesa verso il profondo, il profondo calore, quindi c'è questo intervento dei legni ma c'è questa dolcezza della fava tonca che esplode, che si apre e leggermente dolce, dolce, mandorlato ma leggermente balsamico e poi arriva l'ambra, questa ambra molto calda, molto avvolgente, questa commissione tra l'ambra e la fava tonca secondo me sono una cosa assolutamente nuova per quello che riguarda almeno il mio sentore e che mi ha fatto totalmente innamorare di questo profumo, che è un profumo comunque dolce ma che resta comunque meno dolce di quello che vi ho fatto vedere prima di questo. Per correttezza io vi dico che alcuni di questi profumi che vi ho mostrato, non tutti ma alcuni, mi sono stati omaggiati dalle aziende, che ringrazio moltissimo per questa possibilità e per questi doni natalizi, sono profumi comunque che ho scelto io e che non mi sono stati inviati senza che io potessi conoscerli, spero che vi siano piaciute le mie proposte, rimedete sintonizzati perché arriveranno comunque presto, arriverà presto un video sulle proposte più low cost, diciamo, per questo Natale. Io vi ringrazio, vi auguro buon Natale, pieno d'amore, comunque di vicinanza nonostante la distanza e vi mando il mio di amore, la mia di vicinanza con tutto il cuore. Ciao ciao!